Il giorno dopo la pubblicazione della sentenza del Tardinapoli che ha bocciato la politica del presidente dell'Aggiunta regionale della campagna Vincenzo De Luca che un anno fa aveva deciso di chiudere le scuole davanti all'emergenza sanitaria, viene registrata grande soddisfazione da parte delle mamme e dei componenti dell'Associazione Scuole Aperte. Questa mattina in una conferenza stampa che si è svolta presso la sede del Codacons, l'Associazione dei consumatori che ha affiancato i genitori in questa battaglia, è stata espressa la soddisfazione per il risultato raggiunto ma anche illustrato come si potrà andare avanti. Il Codacons non esclude la strada verso la richiesta di risarcimento per tutti coloro che hanno dimostrato di aver subito un danno. L'importanza della sentenza e di aver dimostrato come l'istruzione e i servizi essenziali siano di competenza dello Stato centrale. Si è affermata, hanno ribadito le mamme, la centralità del diritto allo studio e alla frequenza scolastica. Noi come Associazione Scuole Aperte Campania siamo estremamente soddisfatti perché la giustizia è trionfata. Io ho sempre creduto che se si portano avanti la tutela dei diritti, soprattutto la tutela dei diritti dei minori, con forza si sarebbe raggiunto il risultato. Ne sono estremamente soddisfatta, noi come Associazione lo siamo perché se lo sancito finalmente un diritto fondamentale, ovvero che esiste una normativa statale a tutela della salute pubblica e dei minori e quindi del diritto all'istruzione dei minori che non poteva essere scavalcata assolutamente dalla politica regionale. Non esiste una contrapposizione tra SIDAD e NODAD. Semplicemente noi abbiamo voluto che tutti i ragazzi potessero tornare in classe. Abbiamo voluto dimostrare e chiedere al Tribunale che le ordinanze della Regione Campania fossero prima sospese e poi con questa sentenza di ieri che ha sancito appunto la gerarchia statale regionale che appunto in stato di emergenza le regioni non possono legiferare in difformità a quanto previsto dalla normativa statale. Ora innanzitutto è stato un premio a tutto un lavoro di un anno, siamo molto soddisfatti ovviamente perché tutte le nostre tesi sono state appunto legittimate dalla sentenza e adesso si aprirà certamente un aspetto legato al risarcimento dei danni nelle sedi civili sia per quanto riguarda i ricorrenti, perché io sono sia avvocato ma anche papà, quindi in primis interessato, sia per quanto riguarda altre situazioni che potrebbero addirittura interessare tutti i cittadini esenti in Campania.